Già mai, questo non è un Souls assolutamente no! E invece sì. C'è stato il PlayStation Showcase e io voglio iniziare le Souls News con Phantom Blade Zero, che a mio avviso è qualcosa di scenograficamente pazzesco. È veramente bello da vedere, veloce e spero effettivamente che tutto quello che abbiamo visto sia la realtà. Ci vorrà del tempo, non sarà una cosa immediata la scoperta di questo titolo, però effettivamente IGN l'ha già classificato come Souls-like e di fatto l'ipotesi secondo me non va così tanto distante dalla realtà perché scenicamente mi ha ricordato immediatamente un Sekiro più action, più mischiato a V-Long ma comunque la chiave mi ha fatto dire Souls-like. Non so cosa tu possa pensare di questo titolo, di questo genere di giochi ma quando ho visto muoversi il dragone, beh, questo gioco mi ha conquistato. Quindi ora prendi un bel respiro perché sei il gatto di Schrödinger, sei dentro la scatola dei Souls e sarei solo tu a decidere se sarai vivo o morto nel momento in cui la scatola si aprirà. Perché sei in cristalla, un nuovo titolo annunciato che uscirà prima o poi e di fatto mette in campo un qualcosa di un pochino diverso dal solito, molto più carino del solito. Peccato che i movimenti del personaggio siano più che altro umani. Ecco, questa forse è l'unica cosa che mi ha fatto storcere il naso ma dal momento che siamo ancora molto distanti da un lancio ipotetico mi aspetto che questa cosa venga corretta perché l'idea è buona ma se questo non bastasse potrete giocare ai Souls anche in fondo al mar. Glaciered è stato etichettato anch'esso come Souls-like e ci porta in fondo al mare ed è incredibile la resa di questo titolo. Sarà incredibile anche il movimento, l'acqua sarà realistica, quello che potremmo fare sott'acqua sarà riscontrabile tra virgolette nella realtà, questo ancora non si può sapere. Però è una bella idea, è qualcosa di totalmente differente rispetto a quella a cui siamo abituati e soprattutto ci porta in mezzo a dei colori che all'interno dei Souls-like non avevamo ancora visto. Mi piace, mi interessa e soprattutto non vedo l'ora che esca. Possiamo già aggiungerlo alla wishlist su Steam. Ed è questo quel momento delle Souls-news dove passiamo da in fondo al mar a in fondo al bar perché qua c'è un po' di imbarazzo in tutto questo discorso. Parliamo di Malenia che è in The Lords of the Fallen, si chiamerà in un altro modo e ha un'armatura colorata in maniera diversa, ma è Malenia, nel senso è proprio lei. E questo, non lo so, mi ha debilitato un pochino e forse non l'avrei proprio messo così apertamente in un gameplay trailer. Cioè, te l'avrei fatto capire, ma in un altro modo. Già l'avevate detto, quindi eravamo un po' preparati, ma questo è tanto. È tanto uguale, è tanto presa ispirazione. È troppo. Ma parliamo un attimino del gameplay che si è visto all'interno del gameplay trailer, che peraltro era pochissimo. Però c'era. Tutto molto dinamico, tutto molto bello, tutto frenetico e la mia paura è che sia tutto esagerato. È difficile da controllare per il giocatore. Magari è soltanto una mia impressione, ma lo vedremo tra l'altro a breve, perché tra un po' uscirà e sapremo tutti quanti effettivamente come sarà il gioco. Speriamo bene, speriamo che abbiano imparato dagli errori che hanno fatto in passato. Piccola riflessione post-produzione. I miei tra un po' verrà rilasciato sono di dimanica larga, perché esce a ottobre. Però è tra un po' se ci pensate. Ti piace la fiava di Pinocchio e ti piacciono i Soulslike, quindi non ti devi far scappare l'Eyes of P. Ma prima ancora, mi raccomando, fai un salto sul canale di GameSpot, perché non ti devi perdere il making of che hanno messo online. È qualcosa di veramente spettacolare, è bellissimo da vedere, soprattutto se sei amante della storia del gioco, se sei curioso di sapere che cosa c'è dietro a un titolo simile, e ti piacciono le arti grafiche, il character design e tutto quello che ruota intorno a questo magnifico mondo. Hanno fatto un lavoro veramente eccezionale, quindi anche se non vi piacciono tanto queste cose, ma siete soltanto curiosi, andatevelo a recuperare, ne vale veramente la pena. Adesso è il turno di Elden Ring. E che cosa faresti se ti dicessi che ho la data di uscita del DLC? Bah, vabbè, ma meno male che non te l'ho detto. Grazie. 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 Grazie.